Due operai sono rimasti ustionati mentre lavoravano a bordo di un peschereccio in un cantiere navale di Molfetta. Il più grave, Vito Donato Pansini, nato a Molfetta e residente a Bisceglie di soli 24 anni, è stato trasferito nel reparto grandi ustionati di Brindisi. Ha riportato ustioni sul 90% del corpo. L'altro, Cosimo Laforgia, di 39, di Molfetta, è ricoverato nell'ospedale cittadino. I medici si sono riservati la prognosi anche se in condizioni meno gravi del collega. La forgia è l'armatore del peschereccio a bordo del quale è avvenuto lo scoppio, mentre il padre di Pansini è il proprietario del cantiere navale all'interno del quale è avvenuto l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano lavorando alla coibentazione della cella frigorifera del peschereccio assieme al padre di Pansini che aveva rivestito la cella in cui incassare il frigorifero di poliuretano espanso. Suo figlio, Vito Donato, lo aveva raggiunto e stava utilizzando una mola. Non si sa ancora se lo scoppio sia stato di una bombola di gas o sia avvenuto per l'ambiente saturo di poliuretano. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal PM della Procura di Trani Ettore Cardinali.